Buonasera da Saroppe di Cavodimonte, mondialito, sesta edizione, cisma giornata, Real Nocelle, Baccio, Fenerbace, 12 a 5, migliore in campo, consideriamo la medaglia a Lello Gargiulo. Grazie Lello! Grazie! Lello, ritorno in campo con una doppietta, se non sbaglio, arretta, scusatemi. Tripletta! dopo un primo tempo personale un poco cos'è così diciamo ha cancato un po della ripresa davvero bene ha fatto anche un assist a sabato come al solito mi ritrovo di nuovo qui in campus con marino a malincuore però diciamo che volevi lasciare il calcio giocato per fare solo la tua attività come l'ha vista la tua squadra stasi come al solito la grande squadra con due palle e meno 39 gol in tre partite scappetta di 60 euro e saluti tutta il simone non ho mai fatto questa professione non ho mai fatto questa professione non ho mai fatto questa professione anche perchè andrei contro diciamo qui ci sono tre manueli io conosco chi lo che può e sacco caso ma eccolo e non solo a lui è la squadra non usciamo più va bene va bene è stato bello finché è durato vuoi fare vai giù siamo tutti in modo ne lo vado a pocce che stiamo andando bello grazie c'è questa telecamera al giro vai 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 facciamo fare la dedicata grazie pensate che questa è una telecamera che ha fatto silice tornena andamani di silice no putterò andamani a fine pure questa telecamera no questa è la nuova ah è la nuova questa è la nuova questa è la nuova 30 euro su che fa dalle cammine se ti fai la dedica eh la dedico alla squadra che hanno creduto in me questa sera forse grazie Lellu dopo che ci ha preso 30 partite bravo Lellu ci vediamo alla prossima cacazia grazie